il mal di testa non sono tutti uguali c'è il mal di testa e il mal di testa forte da angelini la risposta per entrambi per il mal di testa puoi provare moment agisce rapidamente per il mal di testa forte puoi provare moment act con tecnologia liquida veloce momento moment act soluzioni veloci per liberarti velocemente dal mal di testa perché i bei momenti non possono aspettare sono medicinali a base di ibuprofene che possono avere effetti indesiderati anche gravi leggere attentamente il foglio illustrativo d'angelini